Venerdì 16 a partire dalle ore 16 nei locali del Castella Storia Park di San Giovanni Bosco ad Acireale il governatore Francesco Freni Terranova incontrerà il Lion Club di Acireale, Gere Riposto e Acitrezza Verga. I presidenti Rosario Farace, Alfredo Foti e Giuseppe Corsale illustreranno le attività di beneficenze culturali in programma nell'anno sociale 2015-2016.